L'hai trovato bene questo numero? Va bene, grazie mille. Ok, now allow me to open it. Sì, sì. Normalmente non assisto mai l'apertura dei bottiglie di tapice per l'occhio, ma... Dai! Dai! Ce l'hai fatta. Come un vero sommelier, senza nemmeno il rumore del tappo. Ready? Yes. You like champagne? Eh sì, mi piace. Basta, 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 no, se no I get drunk. Va bene, va bene, va bene. Ok, adesso lo bevo? Ok, thanks, ma... Allora, alla tua salute. Alla vostra salute, alla vostra salute. E' fortissimo. Too strong? Non lo puoi allungare un po' perché è troppo forte. Oh, facile. Sì, come fai? Oh, that's great. All right, Clay. Bravo. Bravissima. Bravo. Bravissima. Am I right? I don't think you like my champagne very much. No, veramente, no, insomma, così così. I like it. You're very talented. Sì? Io lo richiedo. Sì. Sì. Basta, 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 basta Grazie a tutti.